Quali valori che ci sono in campo sono i tiri in porta, l'occasione, i calci d'angolo, il modo di giocare? Probabilmente potevamo almeno strappare un pareggio, però loro sono forti, probabilmente sono l'Inter perché hanno quei giocatori che in pochi secondi possono cambiare una partita e oggi è successo questo. Comunque stasera la squadra meritava l'applaudio perché ha fatto tutto, ha dato il cuore, ha dato credo veramente tutto anche se ci sono tante cose che possiamo migliorare, anche come abbiamo preso i gol, sono situazioni dove noi possiamo migliorare tanto e una cosa negativa è il fatto che all'inizio di ogni tempo subiamo gol, questo è un dato di fatto che è una cosa che non possiamo permetterci perché è difficile partire ogni partita sotto di un gol. Comunque è per fortuna che non si incontra ogni domenica l'Inter perché giocando così sicuramente se sarebbe stata un'altra squadra vincevamo anche se oggi non meritavamo di perdere sicuramente con quello che abbiamo fatto su campo perché i ragazzi hanno fatto tutto quello che gli ho chiesto abbiamo cercato di giocare sempre a palla, abbiamo creato specialmente primo tempo diverse occasioni, loro su unico tiro in porta hanno fatto gol poi secondo tempo comunque è comprensibile che siamo calati un po' e loro hanno fatto secondo gol sono cose che quando incontri le grandi squadre ogni piccola distrazione ti fanno pagare e questo è quello che è successo oggi. Sì, a parte la cosa più bella che è il gioco, stiamo venendo fuori anche la forma fisica, stiamo correndo tanto anche se abbiamo giocato domenica stiamo dando il massimo tutti, stiamo rischiando, stiamo parlando delle belle giocate quindi mi hanno recuperato dei giocatori importanti, queste sono tutte cose positive poi è un pazzo, è un gran campione, allora anche quando erano con noi ognuno c'è la sua strada oggi ce l'ha fatto contro, poi magari un giorno sarebbero a dire che l'hanno battuto Sì, sono comunque soddisfatto per i risultati della squadra, sono cose che ti aiutano a inserirti, sono cose che ti aiutano a lavorare con serenità è chiaro che era un po' che non giocavo, ora cercherò di recuperare le forze e le energie per domenica perché è una partita che come Palermo può dare una grande carica in avanti Grazie